When you cry, died, wipe away all of your tears, when you scream, died... Ho iniziato a cantare all'età di tre anni circa, quando prendevo il battacchio a otto la tenda della camera dei miei genitori e cominciamo a cantare le canzoni dei cartoni animati. L'artista Urbinate, Silvia Catani, parteciperà alla finale regionale di Rock Targato Italia, che si terrà il 28 maggio a Osimo. Con altri sei cantanti marchigiani, Silvia sperà di vincere per arrivare a Milano, dove si terrà la finalissima del contest, che in passato ha ospitato sul palco artisti del calibro di Liga Bue e dei Negramaro. Ho con il Rock Targato Italia portato tre brani inediti, sempre su questo genere metal sinfonico, lirico e pop. Una rivincita di Silvia sul suo passato, in cui ha dovuto combattere la depressione. Ed è proprio questo male e la possibilità di sconfiggerlo il tema dello spettacolo Oltre il Tempo, Story of My Soul, nato dopo un incontro di Silvia con alcuni pazienti di un centro per riabilitazione mentale. Volevo aiutare questi ragazzi, voglio creare questo spettacolo perché voglio dare questo messaggio di speranza. La musica ha aiutato Silvia a superare i momenti di difficoltà, ma non è il suo unico amore. Pelle e cuoio sono artigiana di Pelle e cuoio, ho questo tempo perso naturalmente, poi faccio anche i mercatini, quindi mi piace tutto quello che riguarda l'arte. Un'espressione artistica diventata un ancora di salvezza, perché la vita offre sempre una seconda possibilità. Voglio esprimere quello che è stato la mia sofferenza, però anche la mia rinascita.